Lavoro, 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 è il must di questo periodo per tutte le squadre di Serie A e non soltanto. Così anche il centro Bortolotti di Zingonia dove ci si allena intensamente per arrivare pronti ai primi impegni ufficiali della stagione. Stiamo facendo un bellissimo ritiro, stiamo bene insieme, siamo quasi tutti i giorni insieme quindi anche l'importanza di stare bene con la squadra è fondamentale. Quindi siamo contenti, pensiamo a fare tanta fatica che poi ci ritornerà durante il campionato. Tante partite l'anno scorso, tante ce ne saranno da disputare anche quest'anno. Giocare tante partite penso che sia il sogno di qualsiasi calciatore perché ti permette di confrontarti ogni giorno. Giocare tante partite comunque è stata una premiazione dell'anno scorso da tutto quello che abbiamo fatto e dobbiamo solamente caricarci. Sabato scorso l'amichevole con la Zed Alkmar, domenica prossima quella con il Parma, poi in Germania prima di presentarsi all'appuntamento di Varsavia. Le amichevole sono fondamentali anche perché comunque ti fanno entrare nell'ottica del campionato oppure nelle competizioni. Quindi anche magari andare a giocare all'estero ti fa sentire l'atmosfera, ti fa capire le sensazioni che provi, viaggiare, stare comunque con la squadra tutto il giorno. Le amichevole sono molto importanti quindi vanno fatte al massimo delle capacità. Ci dobbiamo preparare al meglio anche per quelle partite lì perché comunque danno anche sensazioni importanti per quando arriverà la prima partita ufficiale. Di sicuro tanta voglia di fare, di fare bene, il tutto condito da tanto entusiasmo. Dopo l'anno scorso l'entusiasmo non manca, dobbiamo essere bravi a tirare fuori le motivazioni, la voglia per quando sarà l'ultima partita dei campionati dire non ci possiamo rimpiangere niente perché poi è la cosa più importante. Non, 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 non. Non, 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 non